Ciao a tutti. In questo video proviamo a risolvere la parte iniziale, quantomeno, del laboratorio 2. Partiamo da, diciamo così, gli ingredienti. Quindi ci servirà sicuramente il testo del laboratorio 2, quindi quello relativo ad HTML e CSS. Ci servirà poi un editor di testo, come Visual Studio Code, che vedete qui. Io ho già creato un file che si chiama index.html che conterrà la nostra pagina web. Ci serve poi un browser, in questo caso Chrome, con un tab aperto, diciamo vuoto in questo momento, per visualizzare il risultato delle nostre operazioni e poi il sito di Bootstrap, getbootstrap.com, nella pagina relativa alla documentazione. In questo video cercheremo di iniziare il laboratorio 2 e quindi probabilmente riusciremo a impostare la pagina e impostare la barra di navigazione sinistra. L'idea di questo video è quello soprattutto di mostrarvi come si può progettare una pagina web passo per passo. Quindi più che mostrarvi la soluzione che è già stata pubblicata online, mostrarvi il processo, il ragionamento, i passi da eseguire per... alcuni passi esemplificativi da eseguire per realizzare da zero una pagina web che utilizzi Bootstrap per il suo stile e la sua interattività. Partiamo. Il laboratorio ci chiede di realizzare una pagina web statica, quindi senza alcun tipo di interattività, solo HTML e CSS, quindi con informazioni finte, che possa servire da interfaccia utente per un task manager. e ci dice che un task è rappresentato da descrizione testuale, importante, se il task è importante o meno, se il task è privato e condiviso ed ha un'eventuale scadenza in formato data. I task inoltre possono essere raggruppati in progetti, il progetto personale, il progetto UPO e così via. Il testo ci dice poi di popolare la pagina con alcuni task, 4-5, e un paio di progetti fittizi. Un possibile risultato è mostrato alla fine. Quindi ecco qui che dovremmo cercare di ottenere in prima battuta una cosa come questa, o simile a questa, che ha alcune, questa pagina ha alcune caratteristiche, un halfbar superiore, in questo caso è tutto schermo, ma se uno non la volesse tutto schermo va bene uguale, una sidebar laterale sinistra e una parte centrale di corpo. In effetti il testo ci dice che la pagina web inizia con una barra di navigazione, la quale include un logo per il task manager, una barra di ricerca, un'icona rappresentante dell'utente attualmente collegato. E poi ci dice che la pagina web è divisa in due colonne, una barra laterale sinistra, larga circa un terzo della pagina e il contenuto principale. E poi il testo ci descrive che cosa deve essere inserito nella barra laterale e cosa deve essere inserito invece nel contenuto principale. Ma partiamo dall'inizio. L'inizio ci dice, usiamo Bootstrap e abbiamo bisogno di una barra di navigazione. Quindi torniamo nel nostro editor, andiamo, apro la finestra un po' di più. Prima di tutto ci serve in questa pagina strutturarla come una pagina HTML. Quindi potremmo sicuramente a mano andare a scrivere doc type, HTML e quant'altro, oppure potremmo nella documentazione di Bootstrap sfruttare questo starter template che essenzialmente ha gli elementi base per una pagina web con già importato il foglio di stile di Bootstrap e del JavaScript opzionale che Bootstrap utilizza, anche se nel momento non lo utilizziamo, è una buona idea incorporarlo. Quindi copiamo questo e andiamo a incollarlo nella nostra pagina. Salviamo e proviamo a vedere l'effetto, come dire, che fa. Benissimo. Questa è la nostra pagina Bootstrap con un titolo che è Hello World e un corpo che ha solo un H1, un header di primo livello, che stavolta dice Hello World. Quindi, come prima cosa, possiamo per esempio cambiare il titolo e questo chiamarlo Task Manager e rimuovere questo H1 perché sicuramente non ci servirà. Aggiorniamo e vediamo che qui ovviamente la pagina non ha più body, ma il titolo è diventato corretto. Perfetto. A questo punto ci serve una navbar. E ci serve, subito dopo la navbar, strutturare la pagina in, abbiamo visto, due colonne. Però, dato che la navbar è a tutto schermo, possiamo preoccuparci della divisione in colonne subito dopo, in quanto la navbar occupa entrambe le colonne. Quindi partiamo dalla parte superiore che appunto non è dentro nessuna delle due colonne del sito. Quindi guardiamo nella documentazione di Bootstrap se c'è qualcosa che ci può essere utile per la navbar. Noi sappiamo che esiste in HTML un tag nav che può rappresentare una barra di navigazione. Quindi potremmo sicuramente o probabilmente usare questo per rappresentare la nostra barra. Allora, nella documentazione guardiamo dove potrebbe essere, o usiamo cerca, per trovare la navbar. Quindi non è tra layout, perché non vogliamo strutturare il layout della pagina, potrebbe essere tra components. In effetti tra components c'è navbar, perché giustamente la navbar è un componente. Allora, Bootstrap vi spiega come funziona la navbar, quali sono i concetti base, ed è bene dare un'occhiata a questi prima di utilizzarli, e poi vi mostro un esempio. Nel nostro caso abbiamo bisogno di una navbar, andiamo a rivederlo, che abbia tre elementi, un logo, la barra di ricerca e un'icona. E magari questi tre elementi li possiamo mettere ben divisi nella ampiezza della pagina. Vediamo se c'è un esempio che ci può andar bene. Questa è la navbar, c'è un cerca, ci sono dei link in mezzo, a noi i link non servono. Ci serve un logo, quindi questo potrebbe andar bene. Vediamo se ce n'è una proprio come serve a noi. Questo è come mettere il bottone, questo è come mettere il bottone a sinistra. Ora, testo, colori, contenitori, direi di no. Quindi partiamo dall'esempio classico di navbar e andiamo poi a modificarlo. Per esempio quello che aveva la barra di ricerca. Così, è già a posto. Incolliamolo qui. Ecco qua. Salviamo e osserviamo il risultato. Allora, il risultato è che abbiamo inserito una navbar, grosso come tutto lo schermo, che ha un titolo che si chiama navbar, dei link e una parte di ricerca. Noi abbiamo bisogno di un titolo, della barra di ricerca e qui in fondo di un'icona. Quindi, di un logo, oltre che il titolo, o in aggiunta al posto del titolo. Quindi per ora lasciamo questo titolo qui, ma andiamo a togliere tutti questi bottoni, home, link, drop down, perché tanto non ci servono. Quindi andiamo a cercare dove sono. Eccoli qui e questo ul, essenzialmente, vedete, c'è home, link, drop down e disable. Quindi tutto questo ul si potrebbe togliere. E vediamo, perfetto. E adesso inizia ad apparire già come serve a noi, perché abbiamo la navbar, abbiamo una parte di ricerca, ci manca un'altra icona. Quindi, prima di tutto, e giustamente vedete che la navbar è un elemento di tipo nav, e quindi di nuovo è quello che ci serve. Mettiamo questa navbar un nome, task manager, per esempio. Adesso dobbiamo aggiungere un logo. Vediamo, questo si chiama navbar brand. Vedete? Questo link è un link navbar brand con scritto task manager, noi dovremmo mettere un logo. Magari manteniamo anche il testo, ma sicuramente mettiamo il logo. Ecco qui come possiamo fare. Usiamo sempre nav, a, vedete, class navbar brand, il link, il link possiamo metterlo a se stesso, quindi index.html. E a questo punto ci dice, se volete mettere un'immagine seguita da un testo, semplicemente mettete un'immagine, in questo caso ci fa un esempio di immagine, e poi il testo. Allora, andiamo a prendere un'immagine, per esempio, dall'icone. Vediamo se c'è un'icona che ci potrebbe essere utile per rappresentare un task manager. Prendiamo il libro, per esempio, questo qui. Come si mette quest'icona? Si copia e incolla questa porzione di svg che rappresenta quest'icona che scalerà rispetto alla pagina, al sito, alla sua grandezza. Quindi dove ci diceva la documentazione, possiamo tornare indietro per riguardarla, dove ci diceva la documentazione, ecco qua, ci diceva subito dentro il tag A prima della scritta. Quindi subito dentro il tag A, andiamo a capo, ecco qui, mettiamo questa immagine che incolliamo, poi c'è la scritta task manager, e poi chiudiamo il tag A. Salviamo e verifichiamo che sia a posto, perfetto, lo è. Dopodiché c'è questo bottone nella navbar che al momento non è visibile, che non ci serve al momento, e questo bottone serve per nascondere una parte di navigazione nella navbar e quando lo schermo passa da questo bottone qui. Vedete, quando riduco lo schermo compare questo bottone qui. e cliccandolo, in questo caso, ci mostra il form. Noi questo bottone qui al momento non ci serve, perché stiamo realizzando il sito a tutto schermo, non stiamo pensando al mobile. Sappiamo, perché abbiamo letto tutto il testo del laboratorio, che una parte extra potrebbe essere avere questo bottone, ma che non ci fa comparire una parte della navbar. Un bottone simile a questo che ci fa comparire tutta la parte laterale sinistra. Quindi al momento questo bottone possiamo tenerlo nel codice, perché ci potrà servire, ma noi sicuramente non vogliamo questo comportamento. Vogliamo che premendo questo non appaia un pezzo della navbar, ma appaia il menu laterale. Quindi sicuramente, dato che questo bottone ha un ID, ha un data target, navbar supported content, che è esattamente questo ID, noi non vogliamo che questo si riferisca a questo. Quindi in prima battuta possiamo sicuramente togliere questo ID e non dovrebbe più appunto funzionare. Vedete, io clicco ma non cambia niente. Quindi la barra di ricerca rimane nascosta a un certo punto. E in seconda battuta, dato che rimane nascosta grazie a queste classi, quello che vorrei fare, e dato che non vorrei che in questo momento fosse un form, proviamo a togliere questo elemento del tutto e andiamo a rimpiazzarlo con un'altra barra di ricerca che abbiamo visto nella documentazione di Bootstrap. C'era da sola una barra di ricerca. Eccola qua. Quindi andiamo a rimettere questo form in line, come prima, che è molto simile a quello che abbiamo appena cancellato, ma almeno partiamo da pulito e non ci portiamo dietro eventuali link con altri elementi della navbar che abbiamo cancellato. Controlliamo questo form, questo form dice deve avere come etichetta search, e va bene, come placeholder qui dentro a search e va bene. Se non ci piacesse potremmo dire cerca per esempio e cambiarlo, e vedete che cambiamo il bottone e se volessimo anche cambiare il contenuto basta cambiare il placeholder, la proprietà placeholder, che a questo punto diventa cerca. Tutte le altre cose ci dicono che questo è un campo di input che ha le sue classi, che è di tipo cerca, perché giustamente è un campo di cerca, che per un screen reader, quindi per una persona, per esempio, per un cieco, per esempio, che leggerà, che vedrà il nostro sito attraverso uno screen reader, questo è etichettato come appunto una barra di ricerca, un qualcosa che ha cerca, soprattutto questo placeholder, e quindi potrà sapere che qui c'è un campo di input per scrivere qualcosa per cercare. Quindi dato che questo verrà letto e che il sito lo stiamo facendo in italiano, diciamo, modifichiamo anche questa area labile in cerca. Vedete che però non cambia niente a livello di interfaccia grafica perché è un qualcosa che serve appunto per gli screen reader. e poi abbiamo il nostro bottone. Perfetto. E per ora siamo contenti così. Ci manca poi un'icona che è un link al... Mettiamo a posto un attimino questa indentazione che è sbagliata. Ci manca a questo punto un'icona rappresentante l'utente attualmente collegato. Allora andiamo a vedere se nella documentazione di Bootstrap, di nuovo nell'icone, c'è un qualcosa che può rappresentare un utente. Va bene utilizzare un'icona di queste o va bene anche prendere un'immagine vera e propria. Vediamo se c'è un... person... people, person, ecco qua. Prendiamo questa che ha anche un cerchietto intorno. E come prima copiamolo e incolliamolo. Ecco qua. Aggiorniamo e vediamo che c'è questa icona. adesso visibile. Quest'icona al momento è un po' piccolina e ingrandiamola. Ingrandiamo la grandezza, l'ampiezza e l'altezza. Mettiamola 2M. Per esempio, forse un po' troppo grosso. Facciamo 1.5. Ecco. Ora abbiamo i tre elementi, magari però non li vorremmo così tutti schiacciati l'uno all'altro, ma li vorremmo un po' più distribuiti, diciamo, nella pagina. Allora, possiamo intanto dire che quest'icona... Beh, innanzitutto diciamo che quest'icona non è un'icona, non è un'immagine, ma potrebbe essere un link. Un link, quindi cliccando quest'icona potremmo andare alla pagina, il potenziale, che rappresenta l'utente correttamente loggato nel Task Manager. Quindi racchiudiamo il non-tag A. A, A, Href, niente, mettiamo cancelletto, title, account, pagina utente, e all'interno di questo A andiamo a mettere la nostra immagine. quindi tutto questo è all'interno di A e salviamo di nuovo. E vediamo che cambia, che questo link diventa diventa blu in realtà. E allora andiamo a capire perché io non vorrei che fosse blu, però prima i link che c'erano, quel home, eccetera, erano neri, quindi andiamo a vedere cosa cambia, se c'è un qualcosa per fare i link all'interno della navbar. Allora, i form, ecco qua, i link. Come sono messi questi link? Sono messi in una UL. No, non ci interessa perché non vogliamo, ne vogliamo uno solo, non ne vogliamo tanti. Allora, qui ci sono i brand, qui c'è l'esempio iniziale, quindi vediamo se c'è un qualcosa, al massimo usiamo questi invece che con UL con qualcos'altro, ma vediamo se c'è un qualcosa, magari un qualcosa che ci metta questo a sinistra, per esempio. Colori, container, direi di no. Qui vedete in fondo c'è un esempio di come attivare questo con del contenuto esterno, quindi ci potrebbe essere utile dopo, molto dopo. Quindi, andiamo a vedere come quei bottoni venivano realizzati. Ecco qua. Quei bottoni, questi qui, questi link, vedete, sono neri, erano un UL, quindi una lista non ordinata, con dentro degli LI, che avevano come proprietà navbar nav e ognuno era un navitem e poi il link era un navlink. Proviamo a compattare un pochino questo. Come lo compattiamo? Beh, qui potremmo avere come classe, per esempio, sia navitem, perché tanto ne abbiamo uno solo, nav-item, sia nav-link. Perché? Perché tanto è uno solo, non abbiamo un LI con dentro un A, abbiamo direttamente l'A, quindi potrebbe andare bene così. E abbiamo come elemento, abbiamo bisogno, però, di un contenitore che deve avere questo navbar nav. Allora, fare un UL con dentro un LI per un solo elemento della lista, mi sembra un pochino forse eccessivo, e quindi potremmo creare semplicemente un div che sarà il nostro contenitore che avrà come classe appunto navbar nav. Ecco qua. E poi ovviamente questo div racchiude al suo interno il tag A. Ecco qua. salviamo e vediamo l'effetto che fa. Ok, vedete, è sempre un link perché se vado sopra cambia colore, ma almeno è diventato nero come tutte le altre gli altri link che potrebbero esserci. Ora, cerchiamo di distanziare queste cose, di metterle ben a posto. per esempio il link vorremmo che fosse questa icona vorremmo che fosse tutta a sinistra e questo magari fosse centrato. Allora, in Bootstrap abbiamo un elemento per vediamo come possiamo posizionare gli elementi. Abbiamo Spacing che ci dice come utilizzare i vari margini e padding in alcuni formati con alcuni esempi. orizzontale negativo e così via. Dovremmo avere però anche un MLMR uno short end per identificare MLMD no. Vogliamo scusate mettere questo tutto di qua. Quindi possiamo qui nello spacing andare a dire che il margine left quindi quello sinistro quindi questo da questa parte deve per esempio essere nella nostra navbar 0 oppure automatico solo quello sinistro proviamo con 0 quindi qui nella nostra navbar scriveremo ML margin left 0 e vediamo cosa capita capita che non succede niente perché ovviamente lui imposta un margine a 0 ma il blocco finisce qui proviamo a metterlo in auto ok auto va bene auto lo fa spostare tutta a sinistra quindi setta il margin left a auto in automatico in automatico allora quando noi prendiamo un oggetto un elemento e lo applichiamo un margine automatico a destra a sinistra l'effetto tipicamente di questa operazione è che questo in base al tipo di container ma l'effetto è che questo elemento va a finire centrato applicandone solo uno dicendo che il margine sinistro è auto il margine sinistro è questo ovviamente non l'altro come ho detto prima il margine sinistro quindi tutto questo viene spostato viene messo in automatico quindi viene messo tutto a destra finché non trovo un altro elemento ma in questo caso non ci sono altri elementi c'è la fine della pagina l'altra operazione che vogliamo fare è mettere questo magari centrato quindi in questo form vogliamo metterlo per esempio centrato quindi abbiamo detto che per mettere centrato qualcosa dobbiamo scrivere margin left auto margin right auto in bootstrap c'è sempre questo scorciatoia come prima ml auto dove mx sta margine in tutte le direzioni orizzontali quindi sia quello sinistra sia quello sinistro che quello destra salviamo e vediamo che il nostro cerca adesso è centrato in teoria da quello che dice il testo va bene così abbiamo finito potremmo anche ingrandire un pochino se vogliamo l'icona del task manager ma è robettina per renderla un po' più grossa se vogliamo fare come come nella figura mostrata nel test del laboratorio possiamo cambiare colore a questo quindi come si cambia il colore alla navbar andiamo a vedere di nuovo tra la documentazione della navbar e abbiamo visto prima che è possibile avere dei temi ecco qua e questi temi vedete hanno due caratteristiche tutti iniziano con la class navbar perché ovviamente identificano navbar poi dicono navbar dark e bg dark allora il primo navbar dark dà il colore al testo dice attenzione che la navbar sarà scura avrà un colore scuro e quindi il testo deve essere di conseguenza bianco quando invece lo sfondo è chiaro come nel caso di questo terzo esempio occhio che la navbar sarà chiara e quindi il testo deve essere scuro deve essere nero e poi imposta questi colori di background dark che vuol dire nero primary che vuol dire blu e poi un colore a caso questi colori di background sono definiti non qui da qualche parte colori ecco qua e sono tutti questi definiti in bootstrap quindi se volessimo per esempio metterlo verde come nel testo potremmo usare questo bg meno success come classe se volessimo metterlo giallo potremmo usare bg meno warning proviamo a metterlo giallo così da fare qualcosa di un po' diverso rispetto alla soluzione che avete online quindi questo deve avere questo bg warning avevamo vi ricordate tre elementi navbar navbar light o dark e poi il colore e qui ritroviamo gli stessi elementi navbar navbar light e background light che era questo chiaro mettiamo questo giallo ecco qui aggiornando vedete che questo è diventato giallo proviamo a mettere il testo bianco per vedere se sta meglio non particolarmente in realtà quindi possiamo lasciarlo magari dark salviamo scusate light salviamo e aggiorniamo ok se questo colore giallo non ci piacesse potremmo cambiare questa classe con un'altra per esempio bg success e oppure definire la mano come ci mostrava la documentazione su navbar un'altra cosa che vorrei fare un'altra cosa che che vorrei fare con la pagina tutto schermo è mettere questa navbar fissata al al top in modo che anche se la pagina come succede in questo sito che se anche la pagina si muove questa navbar rimane sempre fissa qui sopra qui non lo vediamo perché non abbiamo contenuto ma se avessimo un contenuto che sta fuori la pagina questa navbar navigherebbe e uscirebbe dalla pagina invece vorrei tenerla fissa allora in bootstrap sempre tra i componenti possiamo nella navbar vedere che è possibile ci sono delle classi per farlo vedete placement questo è quello di default fixed top fixed top ci ottiene il risultato che volevamo quindi ci blocca la qui ci blocca la navbar all'inizio della pagina rimane sempre fissa all'inizio della pagina vedete che c'è anche un fixed bottom come nel caso volessimo metterla sotto fissa ma a noi va bene fixed top quindi aggiungiamo questa classe aggiorniamo vediamo che non cambia niente ovviamente perché non abbiamo contenuto da poter scrollare ma man mano che la pagina si riempirà potremmo vedere un cambiamento ok abbiamo fatto la navbar andiamo a vedere il testo cosa ci dice il testo ci dice dopo la navbar abbiamo due colonne una barra laterale a sinistra larga circa un terzo della pagina e il contenuto principale strutturiamo a questo punto il layout quindi dopo la navbar abbiamo bisogno di creare due colonne andiamo a vedere visto che siamo bootstrap nel layout come facciamo a creare delle colonne allora qui ci fa subito un esempio con tre colonne e ci dice dobbiamo avere un container dobbiamo avere una riga e poi all'interno della riga abbiamo le tre colonne poi chiudiamo chiudiamo la riga e chiudiamo il container bene sembra quello che serva a noi noi invece di tre colonne ne dobbiamo avere due e occhio queste due colonne che dobbiamo avere la prima deve essere un terzo di tutta la pagina e il resto deve essere due terzi però la struttura che ci serve è questa un div con un container un div con una riga e un div con le colonne o qualcos'altro se abbiamo qualcosa di meglio in cui invece di un div da utilizzare e nel nostro caso lo avremo container e raw sono due classi obbligatorie container se andiamo a leggere può essere o normale o container fluid container fluid mette una larghezza al 100% che va bene quindi rimane sempre tutta la pagina come questo non è centrata e raw è un elemento che serve quindi ci vuole un container ci vuole una riga la riga delle colonne poi se ne avessimo bisogno di un'altra riga potremmo avere un'altra riga qui sotto con altre colonne sotto quindi questa è la struttura che ci serve prendiamola intanto e incolliamola qui allora vediamo cosa succede succede che nonostante ci sia questo noi non vediamo niente perché andiamo a vedere se questa operazione è andata a buon fine quindi controlliamo che ci siano queste righe sì però vedete dove lo mette il container lo mette nascosto sotto un navbar quindi se io per esempio cancellassi un navbar ecco che mi appare il container ovviamente noi non possiamo cancellare un navbar ma dobbiamo dire al container di stare sotto un navbar e fatemi vedere un'altra cosa vedete che questo container è più o meno centrato nella pagina ha un bel margine ha un certo padding noi invece lo vogliamo mettere al 100% quindi invece di container useremo questo container fluid quindi se noi aggiorniamo e andiamo momentaneamente a nascondere la navbar vediamo che queste tre colonne non hanno più margini sono allargate su tutta la pagina a questo punto no però abbiamo bisogno di spostare questo container sotto sotto la navbar quindi per ora giusto per vedere il risultato applichiamo per esempio un margine top di 2 vediamo cosa succede è troppo poco un margine top di 5 ok è troppo poco lo stesso ma iniziamo a vederle quindi per ora lasciamolo così tanto non sarà dobbiamo modificare non ce ne servono tre ce ne servono due eccetera allora torniamo di qui e vediamo come facciamo a fare due colonne e che cos'è quel call sm allora il call sm sta per indicare la risoluzione del viewport quindi la finestra del browser che si applica da 566 pixel in su cioè un call md che si applica da 728 un lg che si applica da 992 pixel della finestra della larghezza delle finestre e così via noi vorremmo però due colonne non grosso uguali ecco qua tipo così questa è più grande di quella precedente ci siamo quasi così questo deve essere circa un terzo di questo e allora se noi leggiamo l'overview scopriamo che bootstrap utilizza 12 colonne singole e quindi se noi vogliamo avere una colonna una colonna una parte appunto una colonna del nostro sito che grosso un terzo rispetto alla pagina possiamo fare 12 diviso 3 che fa 4 quindi noi qui dentro potremmo andare a togliere una nostra colonna perché noi ne abbiamo solo due togliere questo call sm perché in questo momento vogliamo che sia tutto schermo che si applichi sul desktop non pensiamo la parte responsiva ancora e che quindi che la prima sia 4 12 diviso 3 e la seconda sia ovviamente 8 e quindi qui ci sarà la nostra sidebar e qui ci sarà il nostro contenuto principale salviamo e vediamo l'effetto ok allora se noi andiamo a togliere la navbar vediamo che la prima colonna all'interno della riga ovviamente la prima colonna occupa un terzo della pagina e l'altra occupa tutto il restante che è quello che vogliamo quindi ora quello che ci serve è andare a riempire innanzitutto a spostare tutto sotto la la navigazione e poi riempire la barra laterale allora abbiamo visto che il margin top di bootstrap non ci basta per spostare tutto e allora dobbiamo potremmo scriverlo in linea qui style oppure potremmo definire un nostro file css cosa che andremo a fare quindi apriamo creiamo un nuovo file chiamiamolo custom.css come volete e andiamo a dire al nostro html che oltre bootstrap deve incorporare il nostro css personalizzato il nostro css quindi link rel stylesheet href custom.css e chiudiamo il link quindi da questo momento ci carica anche il css l'eventuale css che definiamo qui e cosa vogliamo definire vogliamo dire che questo deve stare sotto la navbar quindi potremmo creare una classe che si chiama below nav che in questo momento mettiamo nel container fluid poi in realtà lo sposteremo probabilmente e quindi qui possiamo creare una classe below nav che a questo punto ha le proprietà che che vogliamo quindi ad esempio potremmo usare il margine oppure potremmo definire il padding proviamo il margine per ora poi margin top due punti proviamo con 5 rem e vediamo se ci va bene 5 rem è sufficiente proviamo con 4 anche 4 è sufficiente quindi proviamo a lasciare 4 a questo punto abbiamo le nostre due barre questa diventa la nostra sidebar quindi potrebbe essere una side come tipo di classe come tipo di elemento e l'altro potrebbe essere un main come tipo di elemento perché è il contenuto principale possiamo farlo non c'è nessun problema vedete se aggiorniamo la pagina rimane uguale a questo punto possiamo iniziare a riempire la nostra sidebar cosa ci dice la nostra barra laterale che deve contenere il nome dei progetti esistenti alcuni filtri tutti importanti oggi prossimi 7 giorni privati condivisi con e il filtro tutti è quello attivo e ci dice non è richiesto di implementare i filtri ma la pagina dovrà mostrare sono i nomi dei progetti filtri quindi un qualcosa qui che abbia un elenco di questi filtri allora andiamo a vedere se c'è un qualcosa in bootstrap che ci possa aiutare a stilizzare un elenco un gruppo una lista in gruppo allora andiamo a vedere di nuovo sui componenti questo list group magari sì direi che questo list group ci piace quindi qui potrebbe essere scritto tutti importante potrebbe andare bene e sembra anche facile da applicare ci serve che tutti sia attivo e quindi ecco qua abbiamo anche l'esempio con un elemento attivo che ha una classe active in più non ci interessano che siano disattivo ci può interessare che siano dei link sì perché no immaginiamo che a un certo punto noi dovremmo cliccare su importante e vedere solo i task importanti quindi tanto vale iniziare a prepararlo come link e poi c'è una proprietà per rimuovere i bordi e i bordi arrotondati che questa è una classe da aggiungere questo list group flash va bene quindi in realtà a noi quello che serve è questo link in battle quindi copiamo questo e andiamo a inserirlo all'interno della nostra sidebar quindi invece di questo sidebar scriviamo questa cosa qua adesso fatemi oh non si è copiata tutta allora fatemelo fatemi rifare ecco qua ok salviamo e vediamo come appare benissimo allora andiamo a mettere innanzitutto i nomi dei filtri tutti importanti poi cos'altro c'era oggi prossimi sette giorni oggi prossimi sette giorni privati condivisi con questo disattivato non ci serve anche questo non ci serve ho copiato il pezzo sbagliato devono essere tutti uguali quindi privati poi ci serve un condivisi con e ci serve basta ok perfetto quindi adesso abbiamo una parte laterale che viene cliccata ora se possiamo poi duplicare questo list group subito sotto per i progetti per esempio però al momento fermiamoci un attimo qui poi questo è una duplicazione dello stesso list group sotto stilizziamo il primo cerchiamo di renderlo un po' più corrente con il nostro stile giallo che questo questo blu e queste righe non è che c'entrano molto allora possiamo fare due cose innanzitutto una provare magari a mettere uno sfondo a questa sidebar e due provare a appunto stilizzare un po' meglio questa lista di bottoni abbiamo visto prima che questo list group poteva avere la proprietà poteva avere la proprietà flash eccola qui che toglieva tutto quindi questo mi piace così togliamo un po' di bordi innanzitutto quindi copiamo questo e andiamo a metterlo qui e aggiorniamo ok meglio a questo punto mettiamo uno sfondo dove alla colonna vogliamo che tutta la colonna abbia uno sfondo per esempio sappiamo che abbiamo vari background bg qualcosa e quindi abbiamo un bg light se non mi ricordo male che era quello che era originario della navbar ok viene applicato vedete che viene applicato però viene applicato fino a al gruppo e qui ha un margine in alto il margine in alto è dovuto a questa classe che abbiamo aggiunto noi essenzialmente vedete se noi togliamo tre e aggiorniamo magari mettiamo un colore un po' più forte momentaneamente tipo danger che è rosso ok vedete che questo taglia un pezzettino se lo mettiamo a 4 invece ci manca un pezzettino sopra e poi vorremmo che questo rosso arrivasse fino in fondo poi lo trasformiamo in un grigio e come facciamo allora per mettere per far sì che questo sfondo ovviamente lo sfondo arriva fino alla grandezza della side che è grossa come il suo contenuto quindi in questo momento abbiamo solo i filtri quindi arriva qui avessimo i progetti probabilmente arriverà qui non fino in fondo alla pagina possiamo usare possiamo impostargli un'altezza un'altezza minima della pagina dire questa sidebar come altezza minima non deve avere il suo contenitore non deve avere 5 pixel ma come altezza minima deve essere grossa come tutta la viewport quindi potremmo dire creare una classe che chiamiamo per esempio v height 100 l'altezza minima della verticale è del 100% e quindi qui andare a definire una classe appunto v height 100 che avrà come min height quindi come minima altezza che cosa? l'abbiamo visto nella slide che vi ho mostrato nella discussione possiamo utilizzare il 100 bh quindi salviamo questo aggiorniamo e vediamo che in effetti la nostra sidebar arriva fino in fondo alla viewport e vedete anche che arriva fino in fondo alla viewport con permette un po' di scrollare quindi va un po' oltre perché qui abbiamo questo margine che la fa partire da qui quindi il 100% da viewport viene contato dal margine in alto del browser fino alla fine della finestra ma dato che noi abbiamo messo un margine qui di 4 ram ovviamente questo lo fa scrollare vedete però che scrollando possiamo vedere che la barra di navigazione in alto rimane sopra in evidenza che era quello che volevamo con quel sidebar fix top navbar fix top allora come possiamo evitare questo non vorremmo che però la barra laterale andasse sopra potremmo dire che questo invece di margine è un padding e vedere cosa succede allora vedete che qui non succede niente perché noi questo padding lo applichiamo al container invece per far sì che quindi il container comunque sempre un certo margine alla fine sopra uno spazio invece noi vorremmo solo che la sidebar e il contenuto di qui stiano sotto la task manager non ci interessa se il container va di qui è meglio se il container va sotto la navbar perché ci permette di avere una sidebar al 100% quindi evitare questo giochino di scroll quindi questo below nav invece di applicarlo al container proviamo ad applicarlo direttamente alla barra laterale e ovviamente anche al contenuto principale perché anche questo dovrà essere visibile e vediamo cosa succede ah vedete cosa succede che abbiamo perso completamente lo scrolling bene e abbiamo però la sidebar e il contenuto principale ben a posto a questo punto a me personalmente questo spazio mi sembra poco quindi potremmo mettere 5 rem per esempio e così è un pochino più staccato allora benissimo rimettiamo il colore della barra laterale non rosso mettiamolo grigio chiaro per esempio mi piace di più e andiamo a far sì che questo blu sia giallo e quando magari passiamo il mouse sopra non succede niente o rimanga così grigio vediamo sicuramente non lo vogliamo bianco queste scritte non le vogliamo bianche allora dove è definita questa proprietà lì la documentazione non ci aiuta molto credo ma ci aiuta l'ispettore l'ispezione del browser allora proviamo a selezionare l'intera lista il gruppo della lista e vediamo se è definito da qualche parte il colore blu o il colore bianco di sfondo questo colore bianco di sfondo qui sì è definito proviamo a toglierlo però togliendolo non succede niente anche perché era vedete grigio perché era editato da body quindi è difficile che sia lì vediamo se su importante c'è un colore bianco eccolo qua quindi list group item definisce come colore bianco cosa succede se lo togliamo che il colore diventa trasparente e quindi sembra funzionare ora siccome noi non possiamo andare dal CSS di bootstrap a eliminare cose quello che però possiamo fare è dire ok la classe list group item non dovrà più avere il colore bianco non si è copiata punto list group item non dovrà più avere il colore bianco di sfondo ma avere come background color per esempio transparent perfetto vedete aggiornando siamo andati a posto ora noi vorremmo che questo blu diventasse giallo allora allo stesso modo questo blu dove è definito è definito eccolo qua list group item active come background color e anche come border color direi quindi quello che dobbiamo fare è di nuovo prendere questo sperando che questa volta si copi e andare nel nostro CSS a dire che questo list group item quando è presente anche la classe active deve avere come background color giallo poi possiamo andare a prendere esattamente questo giallo qui così vedete il codice che rappresenta il giallo questo ffc107 quindi così abbiamo lo stesso giallo del nostro task manager e anche il bordo il colore del bordo deve essere lo stesso ff107 perché se no sarebbe blu e aggiornarlo ok ora magari anche questo testo come qui deve essere blu non deve essere nero non deve essere bianco e quindi possiamo anche modificare il colore del testo e metterlo invece nero salviamo aggiorniamo perfetto ottimo abbiamo stilizzato questo a questo punto potremmo duplicare questo avere un elenco dei progetti e qui nel contenuto principale fare la stessa operazione e chiederci che cosa possiamo mettere per rappresentare la lista dei task che dobbiamo appunto avere e un'opzione può essere una tabella un'altra opzione che ci permette di avere un po' più di flessibilità nelle colonne potrebbe essere avere un altro list group esattamente come questo alla fine dobbiamo rappresentare una lista di task e noi comunque possiamo usare questo list group che è un gruppo di liste un gruppo di elementi in lista da utilizzare ovviamente senza link ma con con gli elementi del task che ci viene chiesto quindi un elemento per mostrare se il task è completato i punti esclamativi rossi solo se è importante e così via questo io mi fermirei qui con questo video questo appunto esemplifica una parte una bella parte diciamo del del laboratorio 2 e anche una procedura di come andare sempre avanti indietro tra l'html css bootstrap e quant'altro per costruire pezzo per pezzo quello che ci serve ovviamente siamo partiti da navbar perché aveva il 100% poi subito dopo occupava tutto lo schermo poi subito dopo ci siamo concentrati su impostare il sistema griglie quindi le due colonne la riga da riempire e poi abbiamo riempito la riga l'unica riga in questo caso e stavamo riempendo le due colonne da qui in poi la stessa procedura decidiamo cosa mettere nel contenuto principale diamogli uno stile consolo con css e poi aggiungiamo gli altri elementi che eventualmente il testo del laboratorio ci chiede grazie a tutti